Sono oltre 100, per l'esattezza 130, le opere serigrafiche di nuvolo selezionate per la mostra organizzata e allestita all'Accademia Belle Arti Pietrovannucci di Perugia per celebrare e chiudere i festeggiamenti per i 450 anni della sua fondazione. Un omaggio al grande artista contemporaneo Tifernate al secolo, Giorgio Ascani, che è stato direttore e docente di pittura dell'Accademia tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Un appuntamento organizzato per ricostruire l'alta qualità dell'opera del polierrico artista, con un'autentica maratona di contributi scientifici di alto livello che ha preceduto il vernissage. A sottolineare i tratti salienti dell'esposizione dedicata al filone delle serigrafie è stato Bruno Corà, che insieme ad Aldo Iori ha curato l'esposizione. I due hanno saputo interpretare magistralmente l'ideazione della professoressa Lucia Ragni, ex studentessa dell'artista, che ha portato avanti anche il coordinamento in stretta collaborazione con la fociazione Archivio Nuvolo. Oggi, guidata dal figlio dell'artista Paolo Ascani. Durante il convegno è stato anche proiettato il docufilm Nuvolo Nuntius Selatus, prodotto nel 2018 dall'Archivio Nuvolo. La mostra sarà visitabile fino al 18 febbraio prossimo. È un gradito rientro di Nuvolo nelle sue mura amiche. A distanza di circa 40 anni Nuvolo rientra in Accademia. In questa mostra la decisione di dargli il profilo riguardante tutta l'attività di serigrafia di Nuvolo inerente al suo percorso di produzione artistica. Quindi, in questa mostra sono state selezionate tutte opere che contengono una base o comunque che hanno un apporto di serigrafia. Quindi tutti i cicli pittorici di Nuvolo, compreso la parte editoriale delle sue edizioni, che riguardano sempre l'uso della serigrafia.